Prevedere l'istituzione di nuovi tribunali e quello della Pedemontana è uno dei progetti assolutamente più credibili che abbiamo nell'intero territorio nazionale. Il progetto del Tribunale della Pedemontana è fra i più credibili sul territorio nazionale. Lo conferma il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari che con queste parole mette in pratica una pietra tombale sulle recenti polemiche sulla riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa. Insomma il progetto è un pilota a livello italiano e c'è però un disegno di legge in arrivo per chiudere questa partita in tempi brevi. Il governo ha annunciato l'intenzione di depositare un DDL governativo, sarà un DDL di delega al governo che fisserà i principi che sono necessari e fondamentali per rivedere la geografia che era stata penalizzata in passato, quella giudiziaria. Dal sottosegretario che più volte ha visto a Bassano la compattezza del territorio, delle associazioni, dei sindaci e dei professionisti sul tema della riapertura del Palazzo di Giustizia, arriva anche un nuovo invito all'unità che suona come un richiamo all'ordine per la politica locale. Io credo che come Veneto, come Veneti abbiamo il dovere di essere un faro anche di esempio per tutto il territorio nazionale e se c'è quindi come è evidente la volontà politica di investire in quel progetto della Pedemontana dobbiamo fare squadra. Certo, qualche voce contraria c'è e ci sarà di sicuro e le recenti baruffe fra Bassano e Vicenza ne sono la testimonianza più diretta. Chi non lo vuole fare, chi è in disaccordo ovviamente lo può manifestare, lo manifesterà, però noi proseguiamo su questa strada che è una strada di innovazione e di investimento. Più chiaro di così.